Ah, 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 però sono il maschile di via! Magari sapessi! Perché poi le canzoni che curano te, curano gli altri, le canzoni, il tuo modo di affrontare il tuo presente, per dire, ok, mi sto trasformando, ho passato un periodo pesante, impegnativo, in cui temevo di perdere il contatto con l'ombra dell'anima, no? Adesso però sono oltre, questo è un messaggio che arriva anche a loro, oltre alla bellezza delle canzoni, qualche cosa che tu regali a loro, che loro a loro volta sentono proprio, fanno proprio, no? Sì, sempre. Sarebbe bello, perché è bello, è bello, perché è il senso delle canzoni, no? E sono molto contenta quando ci sono delle persone che mi dicono, ma sai questa canzone è invitata, è stato raro, è molto... Perché la musica realmente ha questo potere, e anche le persone che cantano così per diletto non dovrebbero mai smettere di farlo, perché è un modo veramente pleno di poter... E' la realtà dei fatti, perché io mi ho sempre fatto questo effetto. Hai la fortuna di poterlo fare, no? Beh, io ho la fortuna che, insomma... Di poterlo fare nel senso di avere il talento, non la carriera che non ho dopo. Sì, ma anche in realtà è molto bello sentirsi anche seguito, il fatto di sentirsi in qualche modo, il fatto che se tu fai una cosa, scegli una cosa con gusto, gli altri che ti condividono, è molto bello anche questo, insomma. Poi non è che uno deve per forza seguire i gusti degli altri, perché poi perde un po' la rotta. Però è bello, bella questa cosa, mi piace molto. Allora, adesso che cosa regali a loro? Facciamo un pezzo di mio o un pezzo di Marvin Gaye? Ma che è un menù? Allora, che volete? Volete un pezzo suo o un pezzo di Marvin Gaye? C'è uno, l'hai detto, c'è uno che ha detto, il Prepertorio Mondiale. Allora, eccezionalmente questa sera, faremo questo pezzo di Marvin Gaye, perché l'ha detto. Allora, ecco, 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 ecco. Allora, ecco, ecco. Allora, ecco, 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 ecco Grazie. 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 Grazie.